Io quando vedo gli studenti protestare, per me è tutta salute di un paese, io mi rallegro. Secondo me ci sono troppe poche scuole occupate in questa fase, perché siccome non ci sono scuole occupate, non perché la scuola italiana vada bene. Questa però si chiama nostalgia, Fabrizio. No, no, non si chiama nostalgia, io credo che ci sia purtroppo il rischio che si rassegnino anche i giovani, e i giovani non si devono rassegnare, quindi il fatto di vedere i giovani in piazza che manifestano, a me mette intanto allegria, buon umore e anche speranza. Detto questo, la vicenda per la quale scendono in piazza è davvero molto complicata da maneggiare. Devono fare attenzione, perché se vietano, se tolgono la parola al direttore di Repubblica Molinari, all'università, piuttosto che al nostro amico David, ecco, diventano automaticamente dei fascisti. Naturalmente è giusto anche che loro segnalino un disagio che c'è, che non è solo loro, ma che è abbastanza diffuso nel mondo, perché di fronte a quello che vediamo accadere a Gaza, diciamo, proviamo una sensazione di disagio tutti quanti. Detto questo, siccome le piazze si riempiono, mi pare che con una certa frequenza, le forze dell'ordine stiano attenti, perché a Pisa hanno menato dei bambini, e qui, diciamo, recentemente mi sembravano un po' meno bambini. E' una roba la piazza, dal punto di vista dell'ordine pubblico, da gestire con grandissima precauzione, perché basta un niente e la scintilla. Alessio? Ai cittadini.